Ehm, io speravo davvero che non funzionasse Ah, accidenti Ok, quindi è Windows Aero che mi sminchia FNAF Quando ho lo screen multiplo Però, OBS mi toglie il... Quello... come cavolo si chiama? Windows Aero e quindi FNAF funziona Salve ragazzi Benvenuti su Five Nights at Freddy's 3 Oddio ragazzi, voi mi farete morire Ora, purtroppo non posso mettere la facecam Cioè, posso Però un pochino un casotto Ehm, uno è qui Aiuto Cade Ok, ce la posso fare Scusate il casino Au Cascato una cassa Ok, ce la posso fare, tranquilli Ce la faccio, ci sono Allora Ehm Datemi due minuti che metto anche la telecamera Così almeno mi vedete mentre faccio i miei bei salti e muoio di crepa cuore Tutto quanto per colpa vostra Ehm... possiamo iniziare Perché adesso dovrò uscire alt tabbare E FNAF Crasherà Quindi Datemi un secondo Yeah ragazzi Yeah Ok Mi rendo conto adesso che sembro un lottatore di wrestling Questa maglia mi fa sembrare molto più grosso di quello che sono Ok Mamma mia Sono gli occhi Gli occhi di Springtrap Sono una cosa che mi mette un'ansia addosso Che voi non potete immaginare neanche ragazzi Ok Allora Signori Quindi questa registrazione finirà su Youtube Quella di Space probabilmente no Perché le mie creazioni Di solito le tengo segrete Quindi quando faccio una live su Space Nella quale mostro una mia creazione Dovete sentirvi privilegiati Perché Ehm... Quella video Di quella creazione Non lo metto su Youtube Metto solo i video completi di Space Questo invece Andrà su Youtube Perché è il tentativo di fare La quarta notte E arrivare alla quinta ragazzi Allora Ehm... Vivo la Crash Vivo la Creep Arma in inter... Ah il nome del car armato Mmm AIM Arma in interception module Ottimo Anche i nomi italiani vanno bene però eh Ok Per chiunque stesse guardando questo video da Youtube Ti stesse chiedendo Di che cavolo sto parlando Eh... Ho fatto una creazione Che ho mostrato in anteprima Nella live di poco fa E sto chiedendo suggerimenti per un nome Ok Ah... Vai Faccio questo solo per voi ragazzi Sappiatelo Allora Dove sei? Ciao Guardate che bello Eh? 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 Che bello Dov'è? Oh audio 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 Iniziamo benissimo Ok Allora Sostanzialmente Non ti vedo... Perché non vedo... Oddio non lo vedo Oddio sta arrivando Arriva Arriva ragazzi Arriva Io morrò dopo questa Arriva ma dettagli No il fatto è che in questo gioco Non ci sono tutti sti gran jumpscare E la tensione di averlo Anzi probabilmente avrò meno tensione al momento Perché sto parlando un po' con voi No? E allora mi distrago Ciao Ciao Oh mamma... Oh 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 È nella ventilazione Oh audio... Oh mamma mia Ok Eh... Sì Stavo... Allora parliamo Parliamo ragazzi Mi avete già dato per morto Ciao Freddy Ah porca... Voff Freddy Sei un figlio di... Dove sei Springtrap? Dove cacchio sei? Morto Kalex Sì Do... Do... No non ce la faccio Non ce la faccio ragazzi Guardo in sotto perché di solito ce l'ho sotto la telecamera Non ce la faccio ragazzi Assolutamente Non ce la posso fare Quanto ti odio Io ti odio Sei un grandissimo... Ti odio Non sto scherzando Ti odio E ora muoio Ora muoio Eccolo lì No... No... Leggo un po' di commenti Non è perché non voglio continuare Vengo un po' di commenti Ok mi fa piacere che Duncan e Leon lo trovano molto divertente Sono contento per voi ragazzi Sul serio Dovrei fare un giveaway di FNAF 3 E poi vi forzo a giocarci Dopo che avete riso di me che vengo massacrato Ma scusate Dovrei farlo Non lo so Ci devo pensare Tanto non costa tanto Veteran Ghost Ben arrivato Ah c'è anche Spartan Ciao Spartan Per fortuna che ho messo la chat larga Se no non ti avrei visto Ah già che Il tizio non parla Indovina un po' cosa stiamo giocando a Spartan FNAF 3 Perché giustamente Quando la settimana scorsa Ero incasinatissimo Avevo bisogno di un gioco per fare un video veloce No? FNAF 3 non funzionava Continuava a crasharmi al desktop Ma ogni mezzo secondo Cioè lo facevo partire e lui crashava Fine Non funzionava Bestemmie che non avete idea Cioè ho tirato giù tutti i santi Ora che posso fare qualsiasi altra cosa Quindi posso anche dire FNAF no FNAF funziona Ciao Springtrap Ti ho già detto quanto ti odio? Eh Mamma mia Ragazzi Ah non suona il naso Il suo suona Ok Dimmi che sei tornato Eh rieccolo Ok Stai lì quanto vuoi Hi Ok speriamo che il hi lo abbia Oddio Che ha triplo errore All'una del mattino All'una del mattino perché why not Giusto Eh muovete Ok lo so che arriva È arrivato Ce l'ho qui Ce l'ho qui No ok sono ancora vivo No 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 Ok mi fa più paura quel pezzo di Balloon Boy che il Balloon Boy stesso Vi rendete conto Eccolo 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 E' lì Lo vedo E' lì E' lui Schifoso Audio error Mamma mia E c'è ancora la quinta notte Più una nightmare mode che io non farò Cioè io ve lo dico subito La nightmare mode non la faccio Perché è stress Non è più paura È stress Io odio Non voglio fare la nightmare mode Già non sono riuscito a fare Il 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 Di FNAF 2 Ah no Hello Audio e video Oh perché why not Giusto Facciamo prima l'audio Sfaro un suono e poi faccio il video Forza 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 Ok Sperando che sia ancora lì Sono le 3 Ragazzi è terribile Morti in pochi secondi Io non lo vedo No 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 Il 20 azione Per favore non laggare Oh mamma mia Io lo so che arriva Lo so che arriva Nonostante tutti i miei sforzi No, non ci provare neanche Balloon Boy Non ci provare, ti odio già abbastanza Anche se fa paura Balloon Boy ragazzi Mamma mia Ce la posso fare, ce la posso fare Sento che la forza è con me Lo sforzo è dalla mia parte Non so neanche di che cosa sto parlando Lo so ragazzi, ma va bene Ok, niente di rotto No, freddo Ok, va benissimo, stai pure lì tu Oh, sembra che mi segue Ok Mamma mia No, è nella ventilazione Nella ventilazione Ah, dov'è, dov'è Presto, presto Chiuso, chiuso Ciupa Oh mamma mia Cerchiamo di lurcarlo via da lì Ok, lo so che ti sei chiuso lì Ma tanto puoi C'è solo una ventola da cui puoi entrare Per arrivare direttamente nello studio E non è quella da cui è entrato Quindi va bene Però arriva direttamente qua davanti Dalle ventole Quindi devo farci occhio E infatti è uscito Ok Ventilazione Perché se noi iniziamo da Oddio, sono le cinque Sono le cinque Non ci credo No, 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 no Ah Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Oddio No, 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 no Per favore, per favore Sono le cinque Non me ne sono neanche accorto Presto, 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 ti prego, ti prego, ti prego Per favore, per favore Sì, lì, sì, lì, sì, qui E qui Io ti sto a guardare finché non scoccano le sei No, tu stai qui con me Dove vai? Dove vuoi andare? Stai qua Stai qua Sono le cinque Per favore Per Dai Orologio Dai Oh no Audio video error Audio Video lo sistemo dopo Presto, presto, presto Ah Ok Ah sì, ora mi ricordo Era Sì E il minigioco Mi era completamente dimenticato che c'era un minigioco E so anche che avrò il finale brutto Che poi è il finale vero Tra l'altro Sottolineo Ouch Ok Ma il coso viola Cioè Freddy viola Non è il killer Il killer aveva la roba di un altro colore Ok E' inquietantissimo Sembravi tornato bambino Non avete idea di quanto ci ho giocato l'altra volta Oddio Ho ricominciato Ascoltiamo Um this is just a reminder of company policy concerning the safe room The safe room is reserved for equipment and or other properties not being currently used And as a backup fix located for employees only This is not a break room Should not be considered a place for employees to hide and or congregate And under no circumstance should a customer ever be taken into this room And out of the main show area The management has also been made aware That the spring bunny animatronics has been noticeably moved And would like to remind employees That this costume is not safe to wear under any circumstances Thank you and remember to smile You are the face of Freddy Fazbear's season Allora Quello che è successo è che In questo video ha ricordato Che non bisogna toccare le suite Specie il golden bunny Che è lo spring trap Perché non è sicuro È stato mosso E ha detto che i customer I clienti non devono essere portati all'interno delle stanze segrete sostanzialmente Ok L'importante è essere sicuri per Oddio Stiamo per morire Stiamo per morire ragazzi Eh già Stiamo per morire Stiamo per morire Oh mamma mia Ok Arriva 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 No non arriva Non è arrivato Non è arrivato Ok ce la posso Ciao Schifoso Ciao Quanto ti odio Ma va bene così lo stesso Perché so che il sentimento è reciproco ragazzi Mi odia anche lui Altrimenti non cercherebbe di farmi a pezzi ogni singola notte Siamo già alla quinta Che dovrebbe essere l'ultima Dovrebbe 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 Ah Porca di quella put Ah E vai a fare Però voglio leggere le vostre reazioni Prima di continuare Ok Duncan C'è sulla mia lista nera Vediamo chi altro c'è In veteran ghost Anche sulla mia lista nera Stiofana Mamma mia Ok Mamma mia Questo gioco Non so se lo odio Se mi piace Se lo voglio cancellare dalla faccia della terra Se solo mi terrorizzo Non lo so Sono talmente tanti sentimenti contrastanti Ragazzi Che non ne avete un'idea E Andiamo avanti Va Mannaggia E ho perso solo 180 frame Quindi ve la siete goduta tutta Per così dire Non posso spegnere la fan Ciao Schifoso Quanto ti odio Audio error Mamma mia No Foxy mi ha beccato ragazzi Mi sono cagato addosso per l'urlo di Kalek Endermark No Io Io stranamente C'ho una voce Molto Molto pesante C'ho una voce Molto profonda Io Però Il Quando strillo E' un po' più acuta Ma non so esattamente Come mai Però boh E' così Vado a sapere come mai Devo spostare la camera Lì sotto Perché continuo a guardare Lì sotto Per parlarvi Perché Parlo alla chat No Inziché a voi Ah Vai a Balloon boy Del Cacchio Ma si Rebutol Moriamo tutti Tanto Però intanto Ho fatto il quarto livello C'è C'è Sinceramente Se togli spring trap Diventa un'ottima attrazione Questo posto C'è Effettivamente Se non fosse che c'è Un animatronis Che sbrana le persone Potrebbero davvero usarlo Come attrazione turistica Questo posto Cioè Togli spring traps No Gli altri Che cosa fanno? Niente Ti jumpano E basta Quindi puoi tranquillamente Portarci la gente qui E fargli fare La night guard Ogni notte Come attrazione Ma sai che figo Ci starebbe C'è gente che davvero pagherebbe Per avere Tutto sto terrore Io non sono fra quelli Freddy ti odio Però C'è gente che sono sicuro Pagherebbe Mamma mia Video erro Perché why not Non lo sto vedendo Già da un po' E non è bello Come cosa Va vai affan Oppure la finestra aperta Quindi da fuori Mi sento No Ok Eccolo L'abbiamo ritrovato Spring trap Ciao Di nuovo audio error Quanti cavolo di audio error Ci mi fa Ogni due C'ho un error Proprio infame Sto giro Ciao spring Come va Ciao bello Fratello Ok Ho voluto chiudere Quella lì Perché è l'unica Da qui Ci sbrighiamo Devo morire Oddio C'è il video error No Ok Sono fottuto Sono le quattro E sono fottuto Avrei potuto farcela Non ce la faccio Lo sappiamo tutti Che adesso arriva E mi uccide Vero No Non ventilation Non Aaaaa Buonanotte Minestert Oddio Che ore sono Ok ragazzi Facciamo un ultimo tentativo Che non sia troppo breve Se vediamo di riuscire A battere Anche questa notte Speriamo Ragazzi Ok Ce la possiamo fare Ne sono sicuro Fammi muovere Per favore Ciao Ok video error O audio error Audio error Ok allora Lascia stare Quando Ah no Ok Stante parlando Fra di voi Allora Penso che il trucco Sia praticamente Ogni due Resettare l'audio Poche storie Infatti Si è rovinato l'audio E adesso Ogni due Praticamente L'audio Va resettato Per essere sicuri Lo farei anche Ognuno Ma Ah Mi sto abituando Però eh Mi sto abituando No Ok Perfetto Audio e video error Sono fottuto Perché è entrato Dentro un condotto Quindi con tutta probabilità Sono fottuto Ciao Spring Ok Adesso lo vediamo Che passa di qui No Sei ancora lì Vai là Ti sto facendo i suoni Io non sto facendo Nessun rumore E' strano Che sono così Con tranquillo Però l'odio Odio Springtrap A livelli Stratosferici Ok L'importante è che Non sei là Poi Audio Ce la possiamo fare Dai ragazzi Disse No No Perché Perché mi fai questo Sei un Sei un E uccidimi Ok Ok ragazzi Direi che Siamo andati Particolarmente avanti Sono riuscito a fare Un livello Sono veramente contento Ma direi che Può finire qui Ragazzi Wow La live può finire qui Oggi ragazzi Devo dire che Devo dire che E' andata bene Alla fine Ci siamo divertiti Un sacco Sono sicuro Che voi Ve la siete Risa di brutto Alla faccia Alla facciazza mia E che dire Davvero Grazie per avermi Fatta compagnia Questa sera La prossima live È venerdì E sarà su Xcom Se siete nuovi E avete appena Trovato questa Live Sappiate che potete Vedere tutti quanti I miei video Sul mio canale Trovate il link Nella descrizione Di questo canale Cioè Trovate i miei video Nel canale di youtube E trovate il link Al mio canale youtube Nella descrizione Del canale twitch Se invece State vedendo Tutto ciò Su youtube E vorreste partecipare Nel senso Seguirmi A una delle mie live Sono il mercoledì E il venerdì sera Detto questo Signori Grazie Per avermi seguito Fin qua Ci vediamo Alla prossima È stato Un piacere Per voi Per springtrap Per me un po' meno Ma sono comunque Contento Ciao ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ci vediamo Sì Grazie a tutti